come non lo fai in streaming? ciao a tutti, sono Ambu e ora sta partendo nuovo video che mezzo maffi guarda qua no qua ho laggato lì oh no sto lagghiando, mi sta scappando ho tirato io non l'ambiente vediamo, giriamo sui stessi eh, ho anche 250 di team 250 che vuoi che vedo le le particelline del nether sai che ho 500 del nether trova della TNT eh, quello potrebbe essere interessante pesa e tutto vi esplode il computer un po' esplode che cazzo è sto qua? insomma la carico la ma è un schatte block ha fatto un attivare l'applicata oh no chiaramente ne se mettiamo tutta la roba sotto qua se no amburo puoi fare il video e poi dopo fai salto tutto wow un tec che bebi strì Eh, vabbè, non mi si è bloccata l'ass... no. Ecco io, mi sto vaggando... Ma sai, ma mi sa che se la metti tutta in un unico punto non fa tanto. Devi fare tipo una mega strega. Un esplode e fa saltare in giro le altre. Eh, esatto. Eh, ci siamo quasi. Tutto, tutto. Oh, perché c'ho 700 di minuti verso la stream, va bene, non capisco. La commissione è una. Me la so spieghera. Ok. Allora, questo è il grande muro di TNT per testare la qualità. Come vedete i nuovi arrivati, c'è una qualità video che è migliore rispetto a prima. Qui se giro, eccetera, vedete molto molto meglio. Penso che tutti lo starete notando, i nuovi arrivati che hanno seguito oggi la stream. Quindi diventerà eventualmente più vivibile riguardare i video su YouTube se ricarico. qui è... Cazzo è questo? Un blocco offrendo. Oh. Oh, vedi? No problem. Reggo tutto. GG. Un bel buchetto ho fatto. Non male, non male. Guardate come riattivo il mio PC comunque. GG, però. Vabbè dai, direi che ho retto benissimo lo stress test. No, vabbè. Riavviare un attimo la connessione. Bella mafio. Porco dio. Bella mafio. Quindi cosa dite? Direi che la qualità è ottima. Aia. Vedi che si è abbassato il tuping. Vediamo, provo a caricare questo mini test su YouTube. Vediamo un po' come viene su YouTube. Blocco la stream e torno in streaming tra due o tre minuti. Vediamo. Che cazzo è questa opzione finisce.